La tela delle ciclabili, una lunga tela per cucire Vicenza, il centro storico, i quartieri e i comuni dell'Interland. 12.000 metri di piste ciclopedonali, di cui 5.000 già realizzati in questi ultimi 5 anni e 7.000 già pianificati con progetto definitivo o esecutivo. L'ultimo tratto ci porta qui, in strada della Carpaneda, nella campagna tra Vicenza e Creazzo. Un passaggio che permette ai ciclisti e ai pedoni di evitare la strada regionale 11, molto trafficata e quindi pericolosa. Un percorso in mezzo al verde, dove oggi è stato varato il ponte da 25 metri, che collegherà le due sponde del fiume di Oma. Una storia che inizia nel 2009 con l'ex sindaco di Creazzo, Stefano Giacomin, che racconta di aver preso contatti con l'allora sindaco di Vicenza, targato Partito Democratico, Achille Variati. Ho scritto una lettera a variati nell'agosto del 2009, alla quale è seguito un lungo silenzio. Solo nelle ultime battute della sua amministrazione la cosa era stata presa in considerazione. Tant'è che solo grazie alla perseveranza del sindaco Rucco e dell'assessore Celebron siamo riusciti a concludere entro il suo mandato, entro il mandato del sindaco Rucco, questa opera estremamente importante, sia per il territorio di Creazzo che per il territorio di Vicenza. La pista ciclabile diventa dunque realtà in questi anni grazie alla collaborazione tra l'amministrazione del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e il comune di Creazzo, oggi guidato da Carmela Maresca. Un percorso naturalistico fantastico che parte proprio dal comune di Creazzo e si estende al comune di Vicenza. Raggiungeremo nelle nostre belle passeggiate Vicenza in un battibaleno, ma quello che mi preme dire la collaborazione e il lavoro di squadra che c'è stato in questi anni tra il comune di Vicenza e Creazzo. La pista ciclabile si sviluppa per 1600 metri collegandosi con quella proveniente da Creazzo ed è proprio questo l'obiettivo, ricucire Vicenza anche con i comuni confinanti. Mi viene da citare la strada di Casale sulla quale verrà realizzata una pista ciclopedonale, i lavori partono a breve, il collegamento con il comune di Caldogno e partiranno anche i lavori per un'altra pista ciclopedonale di collegamento tra Maddalena e il comune di Costa Bissala. Le piste ciclopedonali a Vicenza vengono fatte, abbiamo fatto quella che unisce Bertesi in ospedaletto, abbiamo in fase di realizzazione ormai l'ultimazione questa che unisce Vicenza a Creazzo e questa mattina abbiamo posizionato il ponte sul dioma che collegherà appunto la città ai comuni fino ad arrivare alla provincia di Verona. Quindi un collegamento che va al di là della zona locale ma addirittura collega nel percorsi il Garda fino a Venezia e questo sarà un punto nevralgico. Molti cittadini potranno andare verso Creazzo e da Creazzo a Vicenza per frequentare le scuole e i posti di lavoro in sicurezza, a piedi o in bicicletta.